L'IKEA si farà, lo ha deciso la Giunta Comunale di Perugia. Sarà realizzata nell'area dell'attuale centro commerciale di Collestrada, con relativo ampliamento invariante del PRG. Si tratta di un investimento di 140 milioni di euro, che avrà ricaduta anche in termini occupazionali, con circa 1000 posti di lavoro. La proposta avanzata dalla Eurocommercial, che è la proprietà, consentirà di rivedere integralmente la viabilità dell'area. Il gettito IMU servirà inoltre per finanziare interventi nel centro storico di Perugia.